E' l'ennesimo triste fatto di cronaca, nel giro di appena un mese, che accompagna il parco Miralfiore e che unisce le bellezze del suo verde alle ombre del suo bosco. Questa volta ad andarci di mezzo è una bambina che, mentre giocava spensierata con gli amici, si appunta con l'ago di una siringa. Portata al pronto soccorso urgentemente, ora la piccola sarà sottoposta per circa un anno e mezzo a controlli nella speranza che questo incidente non abbia comportato per lei nulla di grave. Un fatto che ha sollevato la rabbia dei genitori, ai quali in coro si è unito anche Alessandro Giardini, ex tossicodipendente, che ha fatto del suo passato la forza con la quale combattere questo degrado ed iniziare le sue campagne contro le droghe. Non è giusto che dei bambini, soprattutto questa bambina, che venga spensieratamente al campo sportivo con i suoi amichetti a giocare, venga punta da un ago di dubbia provenienza. E mi hanno detto che quello però è un ago a farfalla, quindi non dovrebbe essere utilizzato dai tossicodipendenti. Allora, io siccome, come sapete, vengo da vent'anni di tossicodipendenza, dal lago a farfalla si usa perché dopo tante iniezioni di eroina o cocaina, le vene non ci sono più, si ritirano o si bruciano. Quindi questi tossicodipendenti usano la strategia del lago a farfalla perché trovano l'avena, mettono uno scotch e poi da lì si fanno senza aver problemi di cercare l'avena un'altra volta, quindi senza bucarsi dieci volte, diciamo. La mia rabbia è forte anche verso i tossicodipendenti in questo momento. Non lo dovrei dire perché... no, non lo dovrei dire. Cioè, la mia associazione è anche prevenzione e centro d'ascolto. Però se queste persone hanno deciso di cronicizzare la loro vita nell'eroina, nella cocaina, è una scelta loro, ma che non vada a incidere nelle conseguenze di come abbiamo visto di questa bambina, della discarica che hanno creato dentro quel luogo perché io ci sono andato personalmente. Alessandro lancia poi un appuntamento al 29 luglio, proprio lì al Parco Miralfiore, per l'ennesima iniziativa della sua campagna contro la droga e, abbracciando la bambina, la invita assieme ai suoi genitori per una serata insieme al parco, affinché viva quel luogo con la spensieratezza con la quale andrebbe vissuto. Io il 29 luglio ho deciso di fare questa iniziativa bellissima perché è come la dimostrazione che daremo è quella che una scelta c'è perché entrando dall'ingresso di via Cimarosa, a destra avremo il boschetto dello spaccio e a sinistra avremo 65 ragazzi che si alleneranno sia col pugilato che con la kickboxing. e quindi hanno la loro passione, il loro sport che ha inciso nella loro vita e li ha portati a prendere strade migliori, per esempio di me, che non avevo nessuna passione, se non quella della cocaina. Questa bambina voglio semplicemente, allora intanto, dargli un abbraccio fortissimo, fortissimo, fortissimo. la vorrei invitare lunedì 29 con noi, chiaramente con i suoi genitori perché le voglio raccontare una mia storia privata che un po' si può ricollegare al suo fatto però in questo momento non si deve preoccupare deve vivere, deve continuare a venire al parco con i suoi amici e vivere la sua età e la spensieriezza che la sua età gli dà. Ripeto, mi vergogno e voglio dirle proprio questa frase io mi vergogno per quello che è successo.